Pimmo, credo che sia un'emozione, hai visto quanta gente, quanti tifosi ti stanno aspettando? Ma è sempre emozionante, qua a Verona per me è un'emozione che non finisce mai, non me l'aspettavo, quindi siamo anche in ritardo, pensavo che anche qualche gente sicuramente se ne era andata via, però sono contentissimo ed emozionato. Maglietta è back, Maglietta è tornato, come stai? Bene, per fortuna bene, ho fatto i primi due giorni controllato, poi ho fatto proprio l'allenamento completo con la squadra, diciamo bene, ho fatto tutto, anche l'ancio, ho provato quello che c'era da provare, quindi sono al 100% recuperato. Sei a disposizione, adesso decide il mister? Sicuramente, sempre il mister che decide, però la cosa più importante è che dopo 35 giorni sono disponibili alla squadra. Hai visto che bene che hanno fatto i tuoi compagni contro Livono, è stata una grande partita, come l'hai vissuta da fuori? È sempre palpitante, come le altre partite, insomma, per me hanno fatto bellissimo anche con il Sassuolo, con la Juve, poi un po' così così con il Torino, quindi hanno fatto un mese veramente bello, e diciamo che hanno fatto un salto di qualità, anche perché sono arrivati 39 punti, quindi manca solo un punto alla matematica, però sono contentissimo. Domanda da un milione di dollari, dove arriviamo? Spero più in alto possibile, quindi questo fa capire tante cose, però si punta sempre più in alto, almeno io ho sempre fatto così, quindi ti dai un obiettivo e quindi cerchi di raggiungere. Il titolo è? Maglietta dalla Lega Pro all'Europa League? Speriamo magari, è un bel titolo, quindi speriamo di scriverlo veramente. Ieri mi dicevi che bel gruppo che abbiamo, hai sottolineato questo. Sì, perché alla fine il gruppo esalta le qualità del giocatore, il gruppo va avanti, il gruppo è quello che ci ha portato più qua, quindi hai detto bene tu, dalla C, con tantissimi problemi, hai arrivato in Serie A dove siamo adesso. Adesso sei pronto a stufarvi perché... Ma non mi stufo mai, quindi mi piacciono queste cose, sono contento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.